E ciao a tutti, sono Alessandro, sono amministratore della pagina facebook.com slash Staragiochi1980 Allora, molti utenti ci hanno chiesto come poter installare il mainmail ma nei dispositivi Android e questo è proprio un tutorial appunto Allora, per poterlo fare semplicissimo bastano 5 minuti nemmeno Allora, quello che ci serve è un computer, un cavetto USB per poter collegare il telefono al computer e ovviamente un dispositivo con Android quindi un telefono con Android Allora, per prima cosa appunto dobbiamo scaricare sul telefono l'applicazione l'applicazione che in questo caso è il MAME for Droid il nome proprio dell'applicazione è MAME for All per tutti quindi apriamo il nostro cellulare e andiamo nel Play Store premiamo l'icona e appunto si apre Play Store e dovremo cercare questa applicazione che si chiama per l'appunto MAME for Droid Chiaramente nel mio cellulare è già installata comunque basta fare installa è gratuita e in pochissimi secondi a seconda minuti e secondi a seconda della connessione lo troveremo, eccolo, nel nostro telefono se lo andiamo ad aprire vedremo che si presenta con questa schermata quindi con il Joy con i tasti e con i vari tasti con i vari impulsanti per inserire i coin eccetera eccetera se andiamo a fare start vedremo che ci dice che non abbiamo nessuna ROM nel dispositivo quindi dobbiamo andare nel nostro solito sito di fiducia a scaricare una ROM qualsiasi per il MAME io sono andato in romenation.net poi metteremo l'indirizzo nelle note andiamo su ROM GAME eccolo qua ve lo inquadro un attimo un po' meglio ok scegliamo le ROM per il MAME e andiamo a scaricare io in questo caso provo a scaricare un gioco che è Circus Charlie che è il gioco appunto del circo scendiamo troviamo il nome Circus Charlie eccolo qua 131kbyte clicchiamo ci dà la solida schermata download this ROM mettiamo il codice di controllo in questo caso 2878 ma quando lo farete voi cambierà facciamo download salviamo il file in questo caso va salvato per comunità nel desktop quindi facciamo soltanto salva ok e infatti eccolo qua lo troviamo nel nostro desktop il desktop scusate per le immagini è preso da un altro telefono mobile quindi la qualità delle immagini lascia un po' a desiderare ok a questo punto colleghiamo il cavo usb al telefono e l'altro capo del cavo va collegato al computer una volta collegato dopo due o tre secondi a seconda se è già installato nel vostro pc comparirà una schermata appunto che ci indica che è stato trovato il dispositivo andiamo a cliccare sulla cartella e quindi nella cartella phone perché non è nella scheda ma nel telefono individuiamo subito quando si apre questa cartella roms main for all clicchiamo andiamo in quest'altra cartella che si apre andiamo su roms e poi a questo punto torniamo nel desktop facciamo un clic destro copiamo la rom appena scaricata da romnation.net e la incolliamo nella cartella roms punto del main for all eccola qua ok il gioco è fatto possiamo tornare nel telefono scolleghiamolo andiamo a premere su main for droid e si aprirà la schermata che è più o meno questa e mi scuso ancora delle immagini però ecco dove troviamo in questo caso l'unica rom disponibile si vede si legge malissimo ma è Circus Charlie è quella che si vede su con il joy possiamo scendere a seconda di tutte le roms che abbiamo installate andiamo a fare start ed eccola qua che parte l'emulazione senza ulteriori indugi e adesso chiaramente non io ho tolto l'audio per poter fare una narrazione sopra quindi non riuscite a sentire l'audio ma vi posso assicurare che l'audio è assolutamente perfetto come insomma nella versione da pc possiamo iniziare abbiamo i tasti di disposizione possiamo fare o il tasto start o il tasto non ricordo l'ultimo comunque a destra e qui iniziamo a giocare chiaramente tenendo un telefono in mano per riprendere l'altro per giocare io farò schifo infatti si vede due e la terza vita già penso che se ne sta andando eccola infatti è andata ok potete fare tutto ciò per tutte le altre roms che volete per tutti gli altri problemi e dubbi chiarimenti non esitate a contattarci sulla pagina facebook.com slash sala giochi 1980 ad Alessandro è tutto ciao